buonasera ho fatto ho fatto la lavatrice ho appeso i panni la cucina di nonna ha fatto la lavatrice e appeso i panni guardate che bei panni e c'è più gusto essere calabrese fare le lavatrici fate un bel commento tanti like tante iscrizioni da questo bellissimo canale di un cuoco calabrese abbiamo fatto il problema una bella lavatrice devo dire dash più bianco non si può no questo è mio presto pomino bianco buonasera